questo è il decespugliatore più atteso dell'anno e noi su questo canale l'abbiamo preso l'abbiamo comprato e ve lo stiamo mostrando ciao amici di luce natura ben ritrovati quest'oggi vi faccio vedere in azione il decespugliatore con tecnologia strato charged più potente di active l'ST65 per chi mi segue avete visto il mio unboxing siamo nelle prime fasi il decespugliatore è nuovo quindi cercherò di non spingerlo troppo adesso ma intanto anche se è una giornata di vento spero che si senta ho dovuto mettere uno scudo all'audio però non potevo aspettare volevo proprio farvi vedere in azione il nuovo decespugliatore la tecnologia strato charged la carica stratificata consente a questa macchina di sviluppare ancora più potenza di avere una drastica riduzione dell'inquinamento da idrocarburi in combusti e di ridurre i consumi quindi ci fa spendere di meno inquina di meno ed è più potente tutto questo grazie alla strato charged con la tecnologia strato charged attraverso due luci separate di aspirazione viene presa un'importante quantità di aria fresca aggiuntiva che viene diciamo immagazzinata attraverso i travasi e poi quest'aria fresca quindi ricca di ossigeno 20.9 l'ossigeno presente nell'aria non so se sapete ma il triangolo del fuoco è composto da tre fattori ci vuole il comburente il combustibile e il calore combustibile e calore ce l'abbiamo il comburente e l'ossigeno l'ossigeno è ciò che brucia tutto in questo caso quantità di aria fresca importante stratificata ci dà proprio una combustione migliore è una fase di lavaggio migliore in pratica amici questo motore st 65 è più efficiente ovviamente chi mi segue lo sa la potenza per noi non è mai abbastanza se inventassero un decespugliatore da 35 cavalli io sarei tra i primi a prenderlo amici ve lo faccio vedere in funzione eccolo qua io voglio dire due cose intanto siamo nelle fasi iniziali di rodaggio comunque per scaldare un po la macchina io cercherò di non esagerare quindi ho montato una tappa in go 120 che ci consente in pratica di non perdere tempo ci basta semplicemente infilare il filo all'interno del tap and go senza svitare smontare nulla e poi girare e avvolgere il filo quindi useremo questa che quando poi il filo finisce si batte sotto e rilascia un altro spezzone di filo usiamo questa montata su questa macchina vedete che Activa ha inserito ST su tutti i loro modelli adesso è inutile che vi faccio il riepilogo però vi dico che al sistema twin damper system il TDS l'asta è da 30 mm quindi parliamo di una macchina veramente importante rispetto alla precedente hanno inserito un filtro in carta maggiorato ovviamente il motore è stato bilanciato diversamente col corpo e in magnesio per essere più leggero la macchina è studiata per raffreddarsi in maniera efficiente io adesso metto in moto mi raccomando amici questo è il primo ci torneremo poi con fili più grandi e con prove più grosse per adesso sto aspettando che tutta l'erba esploda che diventi almeno un metro e mezzo due metri proprio per farvi vedere delle prove più assurde ma intanto io ve l'ho promesso e ve lo faccio vedere in funzione mi raccomando se vi piace questo video mettete un bel like condividetelo ma soprattutto iscrivetevi al canale lo testiamo alle mie spalle su questa striscia di orto e andiamo a togliere oramai la nostra rucola fiorita proprio perché stiamo predisponendo l'orto per andare a mettere le colture estive quindi poi tornerò anche con video sull'orto ma intanto lo mettiamo in funzione così si scalda un po accensione elettronica che ve lo dico a fare è fortissimo iscrivetevi al canale Grazie a tutti. 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 Mi avvicino perché ve lo voglio spiegare, intanto lo facciamo andare un po' che si fa un po' in rodaggio. Non sono andato mai oltre un quarto di acceleratore, ha una potenza impressionante. Io sto ancora, diciamo, giocando con questo decespugliatore ed è assurdo. Non vedo l'ora di tornarci con prove veramente estreme, ma intanto vi faccio notare come abbiamo, a parte qua che c'è il prezzemolo, lo voglio salvare. Guardate come abbiamo tritato qualsiasi cosa, anche ciuffi d'erba importanti, alti un metro e mezzo. Sapete cos'è? È una passeggiata passare sto decespugliatore, basta solo la scheda tecnica per parlarne, 4,5 cavalli, 3,3 kilowatt. Ma adesso con la tecnologia Strato Charged è arrivato a un livello estremo. Questo è il decespugliatore più atteso dell'anno e noi su questo canale l'abbiamo preso, l'abbiamo comprato e ve lo stiamo mostrando. Quindi mi raccomando, mettete un bel like. Io adesso continuo a tagliare l'erba. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io sto facendo raffreddare un po' il motore, quindi prima di spegnerlo lo tengo un minuto o due, dopo di che lo spegniamo, proprio perché siamo nei prime fasi e nel passaggio tra freddo e caldo, lì dobbiamo stare attenti. La potenza è estrema, cioè il filo ha una velocità che ha tagliato di tutto. Io un attimo ve lo faccio vedere perché se no uno non si rende conto. Quello che restava dei broccoli, guardate che diametro che ha questa pianta. L'abbiamo tranciata di netto con una facilità estrema, ma non solo una, tutte, tutto ciò che era rimasto. Mi sono detto, va bene, adesso ci provo, anche se ho un filo, mi sembra 2,7, quello che è in dotazione della Tapp'n'Go 120, guardate che cosa siamo riusciti a fare. Cioè chi coltiva le brassicacee lo sa quanto è dura questa pianta, col cavolo che la spezzi. E io di forza ne ho, non la spezzi. Quindi penso che basti già questo per dimostrarvi quanto è potente questo decespugliatore, quanto è professionale, quanto è leggero e bilanciato, un mondo. Con l'imbracaggio safe, questo qua, che ha 8 miliardi di regolazioni, vi garantisco che riusciamo a regolare il decespugliatore in una maniera tale che è leggerissimo. È leggero quanto uno zainato, forse anche più. E grazie al manubrio col Twin Damper System le vibrazioni crollano. Quindi amici, torneremo con altri video, spero presto, è il tempo che l'erba si alza di qualche metro. E ve lo farò vedere con altre testine, con altri fili più importanti, quindi mettendolo un po' più sotto sforzo. Per adesso è ancora troppo nuovo il motore, non me la sento. Stiamo ancora in garanzia, quindi non me la sento di spingerlo oltre. Però intanto, grazie a questo video, è riuscito a vedere di che cosa è capace questo decespugliatore con tecnologia Strato Charged. E che vi devo dire, Active è riuscita a rendere un motore a due tempi più efficiente. È un'azienda italiana, quindi è il nostro orgoglio, se vogliamo. Io qui ho avuto l'occasione di testarlo con voi e per me è un onore. Amici, mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Io come al solito vi ringrazio per l'attenzione, un saluto e un abbraccio di cuore. Io come al solito vi ringrazio per l'attenzione, un saluto vi ringrazio per l'attenzione.